Ladri di Primitivo a Manduria, una banda per l'esattezza, che si è introdotta nelle cantine Soloperto della città messapica rubando un'ingente quantità del rinomato vino. Il furto è avvenuto nel deposito dell'impresa, dove erano conservate decine e decine di pregiate bottiglie, tutte inscatolate e pronte per la vendita. La scoperta è stata fatta prima dai dipendenti, poi dallo stesso proprietario dell'impresa Ernesto Soloperto, che ha immediatamente chiamato la polizia del locale commissariato messapico. Con al comando la commissaria Marinella Martina, la scientifica ha scaricato i video di sorveglianza, sebbene le telecamere siano state manomesse dai malviventi danneggiando parte del registrato prima di svuotarne il deposito. Non è chiara ancora la quantità effettiva del furto, ma per gli agenti sarebbe considerevole, tanto che i ladri avranno avuto sicuramente bisogno di un grosso mezzo di trasporto, purtroppo non inquadrato dalle telecamere di ingresso. Intanto proseguono le indagini per risalire al trasporto e rinforzare.